buongiorno a tutti da andreana di radio mirti la radio di mirti finance oggi puntata speciale anzi puntatona è appena terminato un summit del sole 24 ore sul tema luxury è sempre una bella esperienza perché sono molto utili questi congressi credetemi io invito sempre tutti a seguirli quindi oggi per voi puntata speciale una sintesi sugli argomenti principali trattati vedrete che saranno utili e non solo a chi si occupa di luxury non è un promo sulle 24 ore però non si può negare che i loro eventi sono sempre di straordinaria importanza e gli ospiti che vi partecipano sono sempre estremamente rappresentativi degli argomenti trattati purtroppo quello di oggi è stato l'ennesimo summit digitale con tutte le comodità che volete ma per chi vi partecipa come ci partecipo io manca quella sentirsi coinvolti anche proprio di persona in un mondo in una esperienza che poi alla fine si condivida con tutti i presenti non ultimo la possibilità di confrontarsi conoscersi e via dicendo vabbè comunque è sempre stato un'esperienza interessante oggi l'ho voluta condividere a caldo leggiamo insieme quelli che sono gli appunti che mi sono presa durante durante l'evento la tematica è luxury e luxury e sostenibilità però come vedremo poi durante il percorso i temi si concentrano non solo sulla sostenibilità nel suo nella sua accezione più completa del termine ma anche sugli aspetti legati a questo modo nuovo di fare i propri nostri acquisti ecco perché vi dicevo non necessariamente le riflessioni riguardano esclusivamente il mondo del luxury che ben sappiamo ha le sue dinamiche ben precise allora qui abbiamo Andrea Ruzzi che è responsabile di Accenture nel settore fashion e luxury per esempio lui si è concentrato sulla definizione di impatto ambientale quindi di sostenibilità quindi ha delineato la necessità di chiarire bene come si misura l'impatto ambientale perché questo non l'ha detto soltanto lui sostenibilità è diventato un po come il quant'altro ce l'hanno un po' in bocca tutti però spesso viene interpretato in maniera un po' superficiale e da una statistica si nota che sì c'è una sensibilità iniziale da parte delle aziende ma spesso riconducono il concetto di sostenibilità che sono al packaging del prodotto piuttosto che ai materiali usati ma non è ancora una vera e propria presa di posizione da parte delle aziende o perché non vogliono o forse è più facile pensare che non sappiano bene cosa sia la sostenibilità e mi han curiosito perché parlava di per esempio algoritmi quindi software a disposizione sul mercato che con poco meno di una ventina di dati per esempio relativi a una collezione in fase di studio quindi non ancora necessariamente di industrializzazione quindi progettazione ma bastano pochi dati con con pochissimi dati già si può capire il livello di impatto ambientale che la tua collezione non dimenticatevi che siamo un summit luxury può rappresentare no e che ancora software che ancora non vengono usati abbiamo poi avuto alfonso dolce che è l'amministratore delegato della dolce gabbana danno con forze col dolce stilista ovviamente direttore artistico ha sottolineato per esempio come nel luxury sia importante il prodotto fatto a mano però l'artigianalità è un bene prezioso che va preservato nel tempo perché non venga sostituito dalle nuove professioni non venga dimenticato ma nello stesso tempo che si affianchi a un concetto di innovazione tecnologica e qui sono entrati in gioco i software di progettazione 3d e c'è stata la messa in luce di una carenza tutto quello indotto le aziende artigianali che poi ruotano intorno ai grandi marchi la carenza di preparazione di know how quindi la necessità duplice di formare giovani leve sia sul fronte del saper fare quindi secondo procedure molto umane se volete perché l'uomo diventa la figura fondamentale e preponderante del processo produttivo ma anche di una formazione tecnologica quindi sapere utilizzare i programmi che oggi sono a disposizione per la progettazione che addirittura diventano un supporto ancora migliore proprio perché poi la produzione a mano di quasi voglia prodotto sia ancora migliore rispetto a prima un'altra cosa importante che ha sottolineato alfonso dolce per esempio è quello di mostrare il grande lavoro che sta dietro un prodotto questo al cliente luxury piace molto questa è una vecchia storia vi dico la verità togliamo tutti gli acquisti per ostentazione ma chi acquista un prodotto luxury innanzitutto perché se lo può permettere ama sapere cosa sta comprando per poter capire ma anche divulgare il suo acquisto spesso dico ai clienti che tratto che vogliono avvicinarsi a questo mondo e qui non voglio dilungarmi troppo perché già gli argomenti sono troppi che comunque occorre sempre distinguere il cliente luxury maturo dal cliente luxury di recente acquisizione ci sono paesi emergenti che non hanno la cultura luxury quindi spesso non hanno quella cultura del prodotto della delle famose difficoltà nel riperimento di determinati materiali o per effettuare determinati passaggi produttivi per cui cosa fanno si affidano al marchio conosciuto per non sbagliarsi mentre il cliente maturo vuole sapere e ne ha il diritto e ho sempre pensato che faccia bene a sia chi compra ma anche a chi vende quindi vuol dire imparare a comprare un prodotto capendo cosa c'è dietro dolce ha toccato l'argomento e shop che ovviamente poi come vedremo successivamente l'ha fatta anche lì un po da padrona dice attenzione l'e commerce sì c'è stato di grande aiuto in questi questo anno e mezzo così particolare difficile ma attenzione perché complessivamente sì ti genera fatturato ma non genera utili e qui ci sono due problematiche una specifica proprio per l'acquisto specifico online perché sappiamo benissimo che il consumatore è stato abituato a poter fare resi quando vuole non necessariamente come dire di diritto quindi con una certa leggerezza comunque ci sono complicanze intrinseche al prodotto che andrebbe toccato provato quindi questioni di vestibilità eccetera ma poi non ultimo ne ha fatta una questione più generale e vedrete che anche gli altri professionisti hanno toccato l'argomento in realtà abbiamo allegramente dichiarato di avere avuto un incremento soprattutto anche sul domestic market quindi sul mercato italiano delle vendite online ma abbiamo una piaga anzi abbiamo fiumi di sangue perché abbiamo una corrispondenza pari al doppio dell'incremento dell'online rappresentata dalle perdite dal retail cioè del negozio tradizionale quindi suggerisce dolce di rivedere comunque il retail che è il negozio tradizionale è comunque fondamentale nella vendita di questi prodotti ma invita cosa che anche nella loro azienda sta avvenendo a rivedere rimodulare il punto di vendita abbiamo avuto diego della valle del suo intervento personalmente sono rimasta neanche colpita però mi sono appuntata una semplice osservazione che secondo lui dice che secondo lui il futuro dei marchi non è quello di marchi non eccessivamente visibili o necessariamente distribuiti in modo capillare così da rivedere un concetto di rarità e che soprattutto siano marchi che hanno qualcosa da dire prima ancora di un prodotto da offrire ora perdonatemi la piccola polemica facile dire questo dal trono in cui sui si siede in cui lui si siede ora che il suo marchio è veramente distribuito anche su marte non vado oltre su questa mia considerazione però ve l'ho ve l'ho riportata interessante invece la coppia della coppiata dell'azienda sisco e ferragamo sisco e ferragamo hanno avviato un lavoro di creazione di un virtual showroom inteso come un negozio tradizionale ma con delle implementazioni digitali importantissime e non pensiate soltanto alla alla semplice possibilità di digitalizzare la vostra richiesta e vedervela non so recapitata a casa questo veramente banale è stato molto interessante capire come ferragamo cercasse attraverso appunto questi strumenti tecnologici che sisco avrebbe potuto mettere a disposizione di ricreare un negozio nuovo dove il digitale non non schiacciasse quella che loro chiamano la necessità di fisicità del percorso di vendita dell'esperienza fisica toccare i prodotti vederli eccetera è una cosa che mi ha colpito invece del loro del loro del loro virtual showroom per esempio è l'analisi attraverso evidentemente un sistema di rilevazione sul pavimento di del percorso del consumatore che entra nel punto di vendita capire dove non passa dove non si sofferma per poter poi migliorare il visual merchandising quindi l'esposizione delle merci e la creazione se è possibile se l'out layout lo permette di influenzare il percorso del cliente così come mi è piaciuta comunque di ferragamo avevamo madame lei ha parlato per esempio anche di mettere a disposizione dei consumatori io ho pensato anche ai buyer ai quali loro si rivolgono per il B2B un kit che li accompagnasse durante la visione in streaming insomma online delle sfilate quindi i materiali che potessero visionarli toccarli mentre vedevano i vari capi moda e accessori perché comunque la signora giustamente ha sottolineato questa comunque costante necessità di fisicità nell'acquisto poi abbiamo avuto un avvocato importantissimo di Milano l'avvocato Arnaboldi che ha fatto una bellissima presentazione del concetto di sostenibilità spiegando che la normativa internazionale non ancora lui dice per fortuna ha fatto danni con eccessive restrizioni mettendo troppi paletti sull'argomento sostenibilità ha parlato di una grande rivoluzione e quindi una rivoluzione porta sempre a un miglioramento ma lascia anche qualche morto sulla strada una sostenibilità che anche lui sottolinea non è solo il packaging o il materiale ma è la rivisitazione questo lo trovo straordinariamente intelligente è la rivisitazione di tutti i tuoi processi in azienda da quelli documentali dai flussi intelligenti che non fanno perdere tempo che non è neanche il chilometro zero un'illusione però se tu ottimizzi la logistica capisci che comunque dai un beneficio a madre terra anche in quel senso forse i primi avvisagli erano per esempio quelle di fare delle scelte ecologiche per esempio quando si trattava di scegliere se stampare un nuovo documento erano piccoli segnali che stavano arrivando poi l'avvocato Arnaboldi ha parlato di quella che lui definisce una fake news quindi una notizia falsa e tendenziosa che pone il mondo del tessile al secondo posto dopo l'oil and gas quindi produzione, la filiera del petrolio per intenderci al secondo posto tra le industrie più inquinanti del pianeta lui sostiene che questo sia sbagliato e che in questo preso atto di questa voce che circola piuttosto importante le aziende che trattano il tessile devono fare un doppio sforzo per contrastare quello che lui definisce un terribile attentato alla loro credibilità vediamo un po' come vi dicevo stiamo leggendo in diretta gli appunti ecco lui ha risottolineato quindi di non avere un approccio alla sostenibilità in maniera semplicistica ma proprio di in questo senso ecco scusate perché sono sempre degli appunti per esempio in questo senso lui dice un approccio semplicistico è anche quello di pensare che l'informatica sia la panacea di tutti i mali attenzione che anche i grandi server che oggi sono necessari a raccogliere questa mole mostruosa di dati che noi riversiamo scarichiamo carichiamo tutti i minuti in tutto il mondo hanno comunque un loro fabbisogno energetico proprio per potersi mantenere in piena efficienza quindi attenzione che anche l'informatica ha il suo lavoro da fare per migliorarsi in questo senso poi abbiamo avuto Andrea Scarano di VP che è stata una delle prime aziende che ha lavorato nel mondo della vendita online quando ancora non si poteva immaginare il fenomeno poi che ne sarebbe scaturito è un'azienda che non so fattura quanti miliardi anche lui ha fatto capire che l'incremento dell'e-commerce ovviamente in Italia è più alto perché eravamo più indietro tanto per cambiare se però mettiamo i nostri dati all'interno dei dati internazionali la crescita è più contenuta però comunque sempre al di sopra dello standard anche perché a opto-orto-collo un sacco di gente ha dovuto imparare a comprare online oppure ha dovuto incrementare quello che prima faceva in una misura più contenuta purtroppo dice anche lui questo a scapito del retail che non è meno importante a differenza del CEO di KPMG di cui vi parlerò più tardi lui ha trovato in questa crescita una crescita pari a quella che si sarebbe potuta prevedere in tre anni KPMG dichiara che abbiamo avuto un incremento in Italia pari all'incremento previsto in cinque anni scusate io credo di più a KPMG nel senso analitico e statistico del termine però non andiamo molto lontani VP ha una vocazione B2B e ha sempre lavorato per dare una cosiddetta seconda chance ai prodotti quindi prodotti rimasti in stock prodotti derivanti da resi e stanno anche loro addirittura perfezionando questa modalità di porsi online proprio per evitare inutili giri di prodotti per esempio di reso dal consumatore che andrebbe di nuovo nell'azienda produttrice per poi essere reimmesso in un nuovo circuito quindi stanno creando un sistema che permetta a questi resi di essere interscambiati direttamente tra consumatori a me questa cosa ha veramente affascinato perché non è almeno ai miei occhi non è semplice creare queste queste reti sono rimasta colpita ovviamente un po' per deformazione professionale dal dottor Curcio della KPMG lui ha fatto un'analisi molto approfondita dello stato dell'arte del mercato ma soprattutto sul cambiamento del consumatore e secondo me questo è un cambiamento che va al di là della classe della fascia di mercato di cui il summit parlava perché comunque personalmente credo che sia che sia si tratti di un prodotto luxury che di ordinare amministrazione il consumatore è uomo umano e quindi questo cambiamento comportamentale lo trasmette lo rispecchia su tutti i suoi acquisti o quantomeno sulla maggior parte giustamente mai come lui poteva dare dei numeri molto precisi e dice sì mi può raddoppiare l'online ogni anno ma ho il 70% di perdite sui negozi in ogni caso dice che si prevede sì una crescita continuativa loro fanno scusate se non voglio porre confusione lui ha sempre tutto quello che sta dicendo lo spalma su uno scenario verso il 2015 loro prevedono comunque una crescita continuativa del digitale ma vede anche la ripresa delle reti fisiche dei negozi non dimentichiamoci che noi siamo animali che amano stare in società muoversi mescolarsi tra simili prima del covid time avevamo due grandi famiglie di consumatori quelli orientati all'acquisto digitale e lui li ha chiamati invece la seconda categoria i boutique addicted per i non parlanti inglesi sono i dipendenti dal negozio cioè se non vado in negozio non esiste un acquisto erano due grandi famiglie ora dopo il covid time possiamo dire che abbiamo dei clienti ibridi quindi che surfano quindi si spostano da una modalità all'altra di acquisto a seconda di quello che comprano o dalla circostanza e questo è un punto interessante compro sia online andrò ancora nel negozio magari nel negozio trovo comunque una presenza di servizio digitale però le aspettative e questo è il punto cruciale saranno le stesse qualunque sia la modalità d'acquisto cosa vuol dire le aspettative diciamo parliamo di aspettative in termini di esperienza esperienza d'acquisto e di valore quindi suggerisce una trasformazione di siti aridi con la presentazione dei propri prodotti con il prezzo le caratteristiche se volete tutte le fotografie necessarie ha in una esperienza io la definirei più divertente più più simile a quella di un negozio e viceversa anziché avere il classico negozio con la sua disposizione merci la sua comunicazione punto vendita il personale di vendita avere anche un'integrazione di carattere digitale e suggerisce anche di aumentare nell'ambito digitale tutto ciò che concerne la possibilità di comunicare da umano con chi sta dietro questo shop online che possono essere chat pronte video call di non ridurre tutto alla messaggistica alla mail alla risposta automatica ma appunto umanizzare il sito internet marketplace online e digitalizzare il punto di vendita secondo me questa è un'osservazione che veramente abbraccia abbraccia tutti perché è proprio una fase di profonda trasformazione dell'approccio all'acquisto c'era anche mi si perdoni se non ricordo la posizione rinascente la dottoressa Elia che dice anche noi abbiamo aperto uno spazio online ma ci siamo resi conto che rinascente può essere una città nella città quindi desideriamo che il cliente entri e non sia più una come dicono loro si autodefiniscono una collezione di negozi e di marchi e d'altra parte chi visita rinascente sa come funziona ma che anche rinascente si trasformi in una esperienza in un percorso che non non sia semplicemente come dice lei un'esperienza in cui un cliente entra vede sì mi piace fatto lo scontrino saluti e non ci siamo più visti poi questa cosa finisce un po' nel dimenticatoio perché il processo è identico in tanti altri posti avremo quindi tornando a KPMG il dottor Curcio dobbiamo come imprese produttrici incominciare a pensare quindi che avremo degli omni customer quindi clienti ibridi che possono essere proiettati su un interesse digitale e retail fisico con aspettative identiche o quasi il più possibile similare tra le due esperienze quindi rivede una necessità di rimodellamento dei negozi e anche un rimodellamento del merchandising digitale e l'omni channel clienting è un concetto leggermente diverso è quello di capire che il cliente si rivolge a diversi canali non è sempre focalizzato su un canale solo non dimentichiamoci che uno dei grandi cambiamenti nell'acquisto della moda da parte del consumatore tipo cioè il cosiddetto target ideale questo da un bel po' di anni è stato quello di mescolare per esempio la natura dei capi d'abbigliamento degli accessori del guardaroba per cui indistintamente possono viaggiare con una borsa da 20.000 euro ma poi trovano una t-shirt che è una figata pazzesca in un mercatino delusato gli piace se la mettono e le accostano quindi maggiore libertà e fuoriuscita dagli stereotipi non è un caso che l'indipendenza del consumatore parlo proprio di quello più evoluto il meno conformista che si attiene a scopiazzare quello che vede sulle riviste ma che personalizza il suo modo di vestire è un fenomeno che c'è da un po' di anni però è stato anche quel fenomeno che ha obbligato sempre di più le aziende a capire che il fulcro del marketing non erano più loro bensì il consumatore chi non l'ha capito è saltato per aria quindi è vero che tu hai un tuo stile è vero che tu hai una tua identità tua azienda però se non ti identifichi nel cliente che desideri servire resti da solo come dico io te la canti e te la balli focalizzarsi sul cliente che desideri vuol dire conoscerlo conosce le sue abitudini le sue aspettative maggiore è la tua conoscenza dei suoi usi e costumi prima di tutto migliore è la selezione del tuo target quindi quello che poi più si avvicina alla tua identità chi invece pensa di guardare i clienti e volerli servire tutti non ha una sua identità di industria di impresa e in realtà poi non fa contento nessuno anzi genera scontento generale perdonate il gioco di parole quindi molto interessante come sempre gasatissima quando esco da queste da queste esperienze spero di avervi passato in estrema sintesi i punti che ho ritenuto più più interessanti come spunto anche di riflessione io onestamente condivido tutto mi è lasciato un po' così il Tellavalle vabbè ma poi chi se ne frega se mi lascia un po' così è importante che nel complesso si sia se ne esca con delle idee nuove e vi confesso mi è venuta una geniale che mi aiuterà proprio per una mia cliente per che ha fatto della sostenibilità la sua il suo cavallo di battaglia la sua bandiera ho trovato un modo per leggere la sostenibilità in un modo diverso e con questo chiudo vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona conclusione di giornata ciao a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti